Benvenuti nel mondo degli orologi Moritz Grossmann. Moritz Grossmann è un marchio di orologi di lusso fondato nel 2008 a Glasut, in Germania. Il marchio prende il nome dal famoso orologiaio tedesco Moritz Grossmann, che ha fondato la sua prima manifattura di orologi nel 1854. Gli orologi Moritz Grossmann sono famosi per la loro alta qualità, la precisione e il design elegante e raffinato. Ogni orologio viene realizzato a mano dai maestri orologiai di Glasut, utilizzando solo i migliori materiali e le tecniche di produzione più avanzate. I modelli di orologi Moritz Grossmann spaziano dai classici orologi da polso ai cronografi, passando per gli orologi da tasca e gli orologi da parete. Molti dei modelli sono dotati di movimenti meccanici a carica manuale, che garantiscono un'alta precisione e una lunga durata. Oltre alla qualità e alla precisione, gli orologi Moritz Grossmann si distinguono anche per il loro design elegante e raffinato. Molti modelli hanno quadranti in smalto o in madreperla, mentre le casse degli orologi sono spesso realizzate in oro o platino. Moritz Grossmann è un marchio di nicchia nel mondo dell'orologeria di lusso, ma è molto apprezzato dagli appassionati per la sua attenzione per la qualità, la precisione e il design. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso di alta qualità, Moritz Grossmann è sicuramente un'opzione da considerare.